Riva Ligure con il sindaco Giorgio Giuffra, da oggi è attivo, ovvero sarà attiva ogni quarto mercoledì del mese, un punto di ascolto di arte, arte che sta per agenzia regionale, territoriale per l'edilizio, ovvero le vecchie case popolari. Prima si parlava in conferenza stampa che Riva Ligure, pur essendo un comune relativamente piccolo, ha delle peculiarità abbastanza marcate per quanto riguarda le esigenze della cittadinanza rispetto a un alloggio, diciamo, a affitto calmerato. Sì, abbiamo 98 nuclei familiari interessati da questa iniziativa, si tratta di un'iniziativa che mette davanti a tutto il buonsenso, per la quale ringraziamo l'amministratore unico di arte Antonio Parolini e l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scaiola, un'iniziativa che va incontro a un'esigenza reale dei cittadini, ovvero quello di essere presenti sul territorio, dare loro l'opportunità di confrontarsi con i proprietari di casa loro, affinché possano mettere a posto e disbrigare le pratiche amministrative, mettere a posto tutte quelle qual si voglia lamentere dal punto di vista manutentivo, e tutte quelle piccole faccende quotidiane che spesso e volentieri non possono essere affrontate in quanto il punto più vicino si trovava ad imperio e quindi con difficoltà di trasporto per persone che sono spesso fragili e disagiate. E grazie.